Da martedì scorso, in Piazza della Pace a Favara, è attivo il Mercato del Contadino. L'iniziativa, coordinata dall'Associazione Fiere Sicane e promossa dall'Assessorato Comunale alle Attività Produttive, mira a valorizzare i prodotti della filiera corta. Il mercatino sarà attivo tutti i martedì, dalle ore 7 alle ore 13 e 30. Tra gli stand anche il gazebo di beneficenza, dove è possibile donare sia viveri che denaro. Il ricavato della raccolta, poi tramite il convento dei frati minori di Favara, verrà devoluto ai bisognosi della città. Questa è la seconda settimana che questo mercatino viene montato qua nella Piazzetta della Pace. È una novità anche per Favara stessa, perché la volontà è mia, diciamo, in quanto Assessore con proposta a queste deleghe. Sto cercando di incendivare ancora di più le iniziative l'iniziativa privata. Mercato che è costituito solo e esclusivamente da produttori, quindi aziende agricole e imprenditori agricoli praticamente, dove all'interno si trova praticamente di tutto, ortofrutta, miele, conserve, vino e in più c'è questo gazebo di beneficenza che noi teniamo moltissimo come associazione e praticamente in ogni mercatino che noi andremo a aprire ci sarà un gazebo di beneficenza. Curatori del gazebo sono i volontari della rete locale denominata Associazioni in Festa, che a turno presideranno lo stand promuovendo anche le attività con cui ciascuna associazione opera sul territorio. Manifestare alla città le attività che vengono svolte dalle associazioni in festa, che sono una serie di rete, di associazioni che operano sul territorio e poi mandare un messaggio ben chiaro di quello che è la cultura sul mondo della disabilità. Abbiamo sfruttato questa occasione che ci viene data con il gazebo della solidarietà e quindi nello stesso tempo non solo si fa una raccolta per quanti vogliano lasciare qualcosa per le famiglie bisognose di Favara, ma vogliamo anche presentare al territorio quale sono le varie attività che ogni associazione singolarmente svolge sul territorio nel mondo del volontariato, che poi si racchiudono tutti in questo slogan che abbiamo voluto mettere avanti e portare alla città nel corso di Giochi Senza Barriere, che sono appunto quello delle associazioni in festa. I beni raccolti andranno a quelle famiglie che vivono nell'ombra e che non girano tutte le parrocchie, ma quelle famiglie che vivono in una povertà veramente dignitosa e che noi frati aiutiamo e quindi cercheremo attraverso la sensibilità di tutti i favarezi che frequentano questo mercatino di aiutare le famiglie bisognose, in maniera particolare ai bambini. Chi ha bisogno? A chi quindi si deve rivolgere? Direttamente a me, direttamente a me o ai frati del convento e noi li aiuteremo, ma ripeto quelle famiglie che non riescono a sbarcare il lunario e non quelli abituati che girano tutte le parrocchie.